Ciao a tutti! Eccomi qua con un nuovo video. In questo video vi faccio vedere i prodotti che ho terminato e che mi sono piaciuti. Allora, inizio col farvi vedere i prodotti che ho acquistato alla Lidl. Allora, vi faccio vedere queste patatine di marca Deluxe. Queste patatine mi sono piaciute tantissimo, sono molto molto buone. Eccoli qua. E vi vado a leggere anche gli ingredienti. Allora, contengono patate, olio di semi di girasole e sale da cucina. Quindi sono buonissime, io ve le consiglio. Quindi se andate alla Lidl prendetele. Poi vi faccio vedere questi biscotti, i biscotti Neo, che in pratica questi biscotti sono, diciamo, l'imitazione dei biscotti Oreo. Questi sono di marca Sonday. E sono molto molto buoni. Io questi me li porto a scuola. E con questo ho fatto anche una videoricetta semplice e veloce. Vi lascio il link di questa ricetta sotto nell'info box. Se volete andate a vedere questa ricetta. Poi, sempre con questi biscotti Neo, ho acquistato questa cioccolata al latte. Questa già l'ho ricomprata perché mi era finita, mi era piaciuta tantissimo. Con appunto all'interno proprio i pezzetti di biscotto Neo. Allora, questi prodotti della Lidl ve li consiglio tutti perché sono buonissimi. Poi vi faccio vedere questi tortini. Tortini al farro a limone biologici con zucchero di canna. Allora, questi tortini li avevo visti sul canale di Kiski Bellina 72. Spero di aver pronunciato bene il nome. E ne parlava bene, quindi sono andata da Inze e ho acquistato questi tortini. Mi sono piaciuti tantissimo perché a me piace molto il sapore del limone. In questi tortini si sentiva tantissimo e quindi li ricomprerò sicuramente. Poi vi faccio vedere questo che è un orzo biologico prodotto italiano e questo lo beve mio padre al mattino e ha detto che è buonissimo. Quindi compratelo. Poi vi faccio vedere questo succo, questo marca Skipper, gusto Brasil, 100% succo. Vi vado a leggere gli ingredienti, succo di ananas, di arancia, di mela, di mandarino, purea di banana, albicocca e papaya, succo di lime e purea di mango. Quindi contiene solamente frutta, quindi acquistate perché io ve lo consiglio perché è molto molto buono. Poi vi faccio vedere anche questa, che è una marmellata, dei rigoni di asiago. Questa è alla prugna, però io vi consiglio tutte le marmellate di questa marca perché sono molto molto buone e sono un prodotto biologico e contiene solo zuccheri della frutta. Quindi molto buono. Poi altro prodotto è questo, questo prodotto della Findus, questo minestrone. Noi minestrone ce li facciamo in casa, però per l'emergenza abbiamo sempre una busta di minestrone in congelatore. Abbiamo provato questo qui della Findus, leggero il primavera, qui dice a basso contenuto calorico. Allora, vi vado a leggere gli ingredienti. Allora, qui dice zucchine al 25,3%, pomodori al 17%, carota al 14,8%, sedano al 13%, fagioline al 9,4%, porro, pinocchi, cipolla al 3%, scaloni al 1,5%, basilico, prezzemolo e aglio. Quindi, come avete potuto vedere, è un minestrone contenente all'interno solo verdure congelate. Allora, i tempi di cottura di questo minestrone sono questi indicati sulla confezione, quindi 6 minuti. Qui dice che preparare questo minestrone è molto semplice, quindi versare il contenuto della busta in una pentola, aggiungere 700 ml di acqua, portare a bollore e lasciare cuocere fino alla cottura. Quindi qui dice 6 minuti con il coperchio e mescolare di tanto in tanto. Noi non l'abbiamo cotto 6 minuti, ma l'abbiamo cotto una decina di minuti, perché all'interno contiene appunto le carote e 6 minuti erano un po' dure. Però voi, appunto, cuocete il minestrone con i tempi di cottura che più vi piacciono. Quindi questo minestrone ve lo consiglio perché è buonissimo. Poi vi faccio vedere questi, che sono dei piselli fini, tenere e dolci, della Valle degli Orti. Li ho provati, mi sono piaciuti, li ricomprerò sicuramente, quindi ve li consiglio. Poi vi consiglio questa mozzarella di marca Conad, questa mozzarella senza conservanti. Ve la consiglio soprattutto per il prezzo, perché non è un prezzo né alto né molto basso. E all'interno contiene ben 125 grammi di prodotto e ve la consiglio anche per il sapore, perché è molto buona. E quindi la ricomprerò sicuramente. Poi vi faccio vedere queste, che sono delle patatine che vanno cotte in forno. Queste sono frisè croccanti, questi sono di marca Pizzoli, patasmella, prodotto italiano. Io le ho provate, mi sono piaciute tantissimo e quindi le consiglio anche a voi. Poi vi faccio vedere questi due prodotti che ho acquistato entrambi a Itali Roma. Vi faccio vedere questo, che è un riso marca Gallo, questo è un riso basmati. A me è piaciuto tanto e ve lo consiglio soprattutto per fare il pollo al curry. Molto buono. Poi vi faccio vedere questo, che è un pesto senza aglio di marca Afertra. Mi è piaciuto tantissimo, molto molto buono e quindi ve lo consiglio. Vi faccio vedere anche questi, che sono dei funghi champignon, questi qui, di marca Itrifolati Logro. Questi li avevo acquistati alla Coppa a solo un euro. Li ho provati, mi sono piaciuti tantissimo e quindi ve li consiglio e li riproverò sicuramente. Ecco qui i prodotti sono finiti, fatemi sapere se avete provato questi prodotti che io vi ho fatto vedere e scrivete tutto giù nei commenti cosa ne pensate, se vi sono piaciuti. Niente, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao! Ecco qui i prodotti che vi devo far vedere sono terminati. Io vi mando al prossimo video. Rifacciamolo. Grazie! Grazie! Grazie!